Trionfa nel quarto Memorial Corrado Benedetti la selezione del San Zaccaria davanti al folto pubblico della tradizionale festa dello sport di San Vittore a Cesena. Per l'edizione 2017 i figli Carlotta e Michele Benedetti hanno organizzato un triangolare di futsal femminile vinto dalle Ravennati per 1-0 in una finale tiratissima contro il Fiorenzuola. In precedenza le due formazioni avevano sconfitto la polisportiva osservanza. Gli anni passano ed è difficile accettare comunque il fatto che mio babbo non ci sia. Chiaramente rispetto alle prime edizioni è un po' più facile farlo perché il tempo un po' rimargina la ferita. La cosa che non cambia è il tantissimo affetto che vediamo ogni volta ci mettiamo ad organizzare questo Memorial per mio babbo da gente, amici, parenti. Soprattutto quando chiamiamo le squadre sentiamo tantissima adesione e siamo molto contenti per questa cosa qui ma sono cose che ci fanno piacere. L'obiettivo anche quest'anno è la beneficenza. Beneficenza, come hai detto bene te, l'obiettivo primario. Con il ricavato del vino doneremo l'intera posta alla scuola primaria Don Baronio per un progetto di integrazione. Siamo contenti e vediamo di racimulare più soldi possibile perché è la cosa primaria che ci interessa.